5.000 agricoltori al Brennero per rilanciare la battaglia sulla trasparenza dell'origine dei prodotti italiani. Il Brennero è uno dei luoghi simbolo per il passaggio dei cosiddetti falsi prodotti made in Italy. Oggi e domani il presidio di migliaia di imprenditori agricoli per verificare insieme alle forze dell'ordine il contenuto di tir, camion, frigo e autobotti. Oggi siamo al Brennero con 10.000 imprenditori agricoli sia oggi che domani per chiedere con forza l'estensione dell'obbligo dell'origine in tutti gli stati membri. Trasparenza per i cittadini e i consumatori e principio di reciprocità. Le stesse regole che vengono imposte alle imprese agricole italiane devono valere nel momento in cui noi importiamo prodotti agroalimentari che provengono da altri paesi. Diversamente si traduce in un furto in termini economici per il lavoro dei nostri contadini e dei nostri agricoltori ma soprattutto in un danno in termini di inganno per i cittadini e i consumatori. I controlli sul camion servono per portare in evidenza quanto prodotto ancora oggi entra nel nostro paese dove c'è il tricolore ma italiano non è. Tutto questo si traduce in un grande inganno che non è più acconsentibile ma soprattutto vogliamo creare una situazione di trasversalità con le altre rappresentanze a livello europeo perché le istituzioni comunitarie ci aiutino a combattere la falsificazione dei prodotti agroalimentari e invece non creino continuamente i presupposti perché tutto ciò che non è trasparente possa continuare ad esistere nel contesto europeo.